In Puglia la lingua dei segni sarà insegnata in tutte le scuole medie e la decisione della regione si tratta di un progetto pilota che punta all'inclusione sociale delle persone con sordità. Damiana Dorotea Sgrammella. In Puglia l'insegnamento della lingua dei segni italiana, l'IS, e della lingua dei segni italiana tattile, l'IS, sarà introdotto nella scuola secondaria di primo grado e quanto deciso dalla regione pugliese in attuazione della legge regionale del 30 dicembre del 2021 che ha presentato il progetto pilota dedicato all'inclusione sociale e all'integrazione scolastica delle persone sorde. L'iniziativa regionale si articolerà attraverso due linee di intervento con l'obiettivo primario di abbattere le barriere della comunicazione e garantire i diritti di cittadinanza delle persone affette da sordità. Il primo intervento riguarda l'attivazione dei servizi capillari di interpretariato sia in presenza che con l'ausilio di piattaforme digitali all'interno dei luoghi come le pubbliche amministrazioni, le strutture sociosanitarie e i tribunali. Mentre il secondo intervento prevede l'organizzazione di corsi di insegnamento della LIS e della LIST nelle scuole secondarie di primo grado della Puglia a cura dell'assessorato all'istruzione regionale. Il progetto si inserisce nel programma per le politiche di inclusione sociale e integrazione scolastica regionale. In tutto il territorio pugliese le persone sorde sono circa 5.000 con una percentuale dell'8% a livello nazionale. Secondo i dati Istat nelle scuole del primo ciclo emerge una maggiore concentrazione di alunni con sordità. Per questo la regione punta a sensibilizzare la comunità scolastica all'inclusione e alla pluralità dei linguaggi lanciando una iniziativa che possa diventare un esempio da replicare su scala nazionale.